E là amici, ecco il volantino Aldi di questa settimana. Da giovedì 21 settembre c'è in offerta una motosega a batteria da 79,99. Occhio che è fornita senza caricabatteria e senza batteria e funziona con una batteria da 40 volt, quindi una batteria importante, ha l'utore senza spazzoli e ha un sistema di lubrificazione continuo. Però se volete utilizzarla e non avete batteria e caricabatteria considerate che dovete aggiungere anche quel prezzo. È garantita 3 anni. Poi vendono un trapano abitatore garantito 5 anni che funziona con batteria da 20 volt. Anche in questo caso dovete comprare batteria e caricabatteria, ancora a 40 euro, una telecamera endoscopica, per vedere ad esempio all'interno dei tubi. Poi una torcia attascabile a batteria con powerbank, una torcia caricabile, 4,99, questo costa veramente poco, una presa multipla con tre prese, come vedete. Poi a 14,99 un cricchetto con bussoli e a 29,99 un set di punte elicoidali. Ancora vendono tre tavolini multiuso a 69,99. Questi necessariamente non ve li consiglio. Poi una mazza oppure un'ascia a 19,99. Sono quelle molto grandi. Serve soltanto se o fate il muratore o spaccate la legna. Poi a 9,99, questo apparentemente è molto conveniente, un set di cacciaviti con 32 pezzi, un cavo di prunga da 5 metri a 7,99 euro, e un set di chiavi combinati, 5 chiavi inglesi, a 12,99 euro. Quindi delle offerte molto, molto interessanti, che io vi consiglio vivamente di prendere. Ancora poi ci sono giacca impermeabile da uomo, da donna, 24,99 euro, insomma vari capi di vestiario che potete vedere. Interessante anche il Super Weekend, in quanto la sedia da bar è molto scontata, 35 euro, e lo stesso il ferro da stiro a caldaia. Ma la cosa forse più interessante è una cicletta a 129 euro.